Non distogliere lo sguardo dal povero, è questo il titolo della giornata mondiale dei poveri che si celebra domenica 19 novembre. La Caritas Diocesana e la Diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro per l'occasione hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare le famiglie e le attività della Diocesi Toscana colpite dall'alluvione dello scorso 2 novembre. Le raccolte avverranno presso le parrocchie tramite versamenti sull'apposito conto corrente intestato alla Diocesi. Abbiamo bisogno di una giornata che ci aiuti a mettere a tema il povero e l'esigenza di accompagnarci al cammino dei poveri, ha dichiarato il Vescovo Andrea Migliavacca, un'attenzione da vivere non solo nella giornata celebrativa ma come uno stile di vita quotidiano, umano e di chiesa. Vogliamo vivere questa giornata anche nel segno di questa raccolta fondi per gli alluvionati della Toscana, nel desiderio che il cammino possa coinvolgere tutta la comunità.